Siamo qui in Assemblea Capitolina, ancora una volta la seduta è stata rinviata al giorno successivo per la mancanza del numero legale, probabilmente questa maggioranza è spaccata al suo interno perché questo è un vecchio trucco che si utilizza, quello di rimandare le sedute in seconda convocazione perché a quel punto il numero, il quorum da raggiungere il numero legale si abbassa e quindi si possono votare i provvedimenti in maggiore libertà. Questo è un provvedimento molto importante, parliamo della svendita degli immobili di Roma Capitale, immobili che vengono svenduti e regalati molto spesso a chi c'è dentro da diversi decenni e non paga le poche centinaia di euro al mese di canone stabilito dal Comune di Roma e quindi per questi motivi e soprattutto per il fatto che vendere il proprio patrimonio in un momento di crisi anziché valorizzarlo, anziché metterlo a reddito dal nostro punto di vista è un qualcosa che non si tiene in piedi, quanto più se si giustifica questo aspetto per pagare i servizi, i servizi devono essere pagati riducendo gli sprechi di questa amministrazione che ci sono e ci sono ancora ad oggi, basta pensare ai 240 mila euro l'anno che percepisce il Presidente e l'amministratore delegato di Risorse per Roma. Unesima seduta inutile dell'Assemblea Capitolina, anche oggi senza numero legale dopo già diversi ore di ritardo, anche questo ha un costo per i cittadini, ogni seduta ha un costo. Alla fine oggi cosa abbiamo combinato? Un unico intervento, quello di un consigliere del PD, tutto concentrato su noi quattro, in cui ci ha detto che siamo bravi ragazzi, che siamo intelligenti, che abbiamo studiato, che siamo persone per bene, ma tuttavia se davvero vogliamo mettere la nostra intelligenza, la nostra grande intelligenza a servizio della collettività, dovremmo votare sì a questa delibera, delibera che ricordiamo lo prevede appunto la vendita di questo patrimonio, in molti casi ai furbetti, ma il consigliere del PD ci ha detto che va fatta questa vendita, questa svendita, va fatta a tutti tranne per le sedi dei partiti.